A poche ore dalla celebrazione della festa dei lavoratori, l'Istat ha diffuso dei dati allarmanti sull'occupazione nel nostro paese. Nel mese di marzo, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, il tasso di disoccupazione italiano è salito al 9,8%, dato più alto dal gennaio del 2004. Il mondo politico commenta con preoccupazione la notizia. Dal PDL, per bocca di Luigi Casero, arrivano possibili soluzioni al problema, che l'esponente azzurro ritiene fondamentalmente italiano ed europeo. È necessario che il nostro paese si dedichi alla crescita, ha affermato Casero, ma bisogna ricordare che senza occupazione la situazione di crisi può soltanto peggiorare. Il democratico Francesco Boccia, invece, punta il dito contro il precedente governo. Quelli diffusi dall'Istat sono dati gravissimi che il PD aveva previsto. La cosa che più ci indigna adesso, ha concluso Boccia, è ascoltare ricette irrealistiche dagli stessi partiti che hanno prodotto questo disastro. Il dato è preoccupante, è un problema fondamentalmente italiano ed europeo della crisi, però è necessario che il nostro paese si dedichi, come stiamo dicendo, alla crescita. Il governo deve dedicare tutto il tempo a far ripartire il paese, il problema della crescita è fondamentale perché far ripartire l'economia vuol dire dare lavoro agli italiani. La soluzione possibile è che il governo prosegua fortemente nella politica dei tagli, sia dei tagli della spesa improduttiva che della riduzione del debito pubblico. Trovare risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale e a sostegno delle imprese che devono lavorare di più. Questi sono una serie di interventi che devono essere prese proprio perché l'obiettivo finale è dare occupazione ai cittadini italiani. Senza occupazione, con l'aumento della disoccupazione la situazione è peggiore e nascono anche una serie di problemi sociali che sono già gravi e che rischiano di aggravarsi ancora di più. Sono dati gravissimi che il Partito Democratico aveva purtroppo previsto, non ci consola aver ragione fuori tempo massimo e ci indigna invece ascoltare dai partiti che hanno provocato questo disastro ricette che non solo non convincono ma che sono irrealistiche rispetto ai problemi reali che i giovani italiani hanno.